ciao amici di saper fare e benvenuti in un altro video oggi parliamo di avvitatore non magari anche se parliamo della marca questo è un avvitatore della tecpo e ha un motore brushless e tra l'altro è un motore senza spazzole ma la cosa bella eppure che ha una bella potenza questa è di 70 newton metri quindi una bella una bella forza siamo forza tra l'altro questo postale circa 150 euro su ebay su amazon la cosa è che perché vi parlo di questo vi parlo di questo perché praticamente si è guastato il pacco batteria che praticamente era in dotazione ebbene allora siccome non è non è facile trovare il pacco batteria perché abbiamo provato a cercarlo su amazon su ebay e tante altre situazioni allora cosa abbiamo fatto abbiamo cercato di smontare il pacco batteria perché faccio questo video appunto per chi ha un qualcosa simile non riesce a trovare appunto il pacco batteria può risolverlo perché non sempre questo caso però nel nostro caso praticamente cosa abbiamo visto abbiamo visto cosa che vi farò vedere adesso che c'era una batteria all'interno guasta quindi una sola batteria che causava appunto il malfunzionamento di questo pacco batteria quindi sostituendo quella batteria di circa 4 euro acquistata su negozi di elettronica una batteria al litio abbiamo risolto il problema prima di ovviamente di farvi vedere questo ci tengo a precisare che queste batterie sono batterie al litio per c'è scritto anche qui guardate vedete questo pacco batteria da 18 volt 2 ampere litio litio quindi cosa vi dico vi dico subito fate attenzione a mettere le mani su questi pacchi batteria perché sono delle batterie potenzialmente esplosive cioè praticamente possono esplodere se fate un errore un errato fu diciamo manomissione del pacco batteria e quindi occhio ma soprattutto la sostituzione della batteria deve essere di uguale sia come voltaggio ma anche come amperaggio quindi non dovete mettere delle batterie di diverso amperaggio andiamo a vedere appunto all'interno cosa ho fatto perché ho fatto già la riparazione però vi faccio vedere nel dettaglio quello che è stato fatto una volta rimosse le quattro viti praticamente è stato facile aprire tutto il pacco batterie come vedete e bisogna rimuovere 12 e poi di saldare queste quattro parti se volete fare un lavoro molto più pulito in modo da poter staccare questa parte sganciando questo gancio e quest'altro vedete qua ce n'è un altro io sinceramente perché ovviamente il mio non ho fatto tutto questo lavoro semplicemente intanto misurato le batterie per singola batteria e ho trovato l'ultima batteria praticamente che anziché dare 3,9 volte dava 0 volte quindi praticamente era guasta allora che cosa ho fatto dato che era l'ultima batteria per semplicità ho tagliato questa plastica e quest'altra plastica e ho rimorso questo lembo in modo da poi staccare l'elettro saldatura della batteria sia dalla parte che dall'altra parte e togliere la batteria prima di fare questo attenzione isolate tutto il resto di questo poi di questa parte di quest'altra parte per evitare appunto che magari lavorando fate dei cortocircuiti e involontariamente creare anche delle esplosioni che purtroppo ripeto sono delle batterie potenzialmente dannose e molto sensibili ai cortocircuiti quindi attenzione a fare un lavoro preciso magari mettete della colla a caldo e poi la rimuovete quando finite di lavorare oppure isolatelo con del nastro isolante una volta fatto questo e siete con la tutela di soprattutto vostra rimuovete la batteria rimettete la batteria nuova ripeto uguale sia come capacità e come tensione una volta fatto questo io ho saldato con lo stagno perché non avevo la macchina per l'elettro saldatura quindi ho saldato direttamente a stagno una e l'altra parte dopodiché ho richiuso tutto quanto ho rimesso le vite e saldato tutto quanto adesso il pacco batteria come vedete funziona perfettamente infatti vedete che questa è quella sostituita perché ha un colore diverso ma uguale sia in tensione che in amperaggio se questo video ti è piaciuto metti un like ovviamente sul nostro video ma soprattutto iscrivetevi sul nostro canale youtube saper fare l'avete visto qua dietro c'è il nostro appunto il nostro smile con il pollice in su per identificare il nostro canale attivate la campanellina per essere sempre aggiornati dei nuovi video soprattutto vedete abbiamo risolto il problema soprattutto perché non solo costa parchi parecchio il pacco batterie ma è difficile anche trovarlo ciao a tutti